Chi è Sara Battisti? L'ex di Jeremias Rodriguez ancora lo cerca Sara Battisti chi è? Vita privata dell'ex ragazza di Jeremias Rodriguez? Scopriamo chi è Sara Battisti. Gossip dal grande fratello Vip, non sono poi molti gli striscioni che sorvolano la casa più spiata d'Italia per rassicurare i concorrenti, che non hanno contatti con i loro cari da oltre cinque settimane. Dopo il messaggio di Andrea per Giulia, di Francesco Monte per Cecilia, è stato il turno anche di Jeremias Rodriguez, sebbene sia entrato da single all'interno del grande fratello Vip. L'amittente del messaggio è Sara Battisti, la sua ex. Quest'ultima è di Milano, e lavora come assistente alle vendite presso l'hotel ex Chelsea or di Milano. Gossip dal grande fratello Vip, il punto è, Jeremias Rodriguez tornerà insieme a Sara Battisti?. Gossip News l'ex fidanzata di Jeremias Rodriguez le ha inviato uno striscione con scritto Io ci sono ancora, mi manchi. Il fratello di Belen Rodriguez inizialmente non credeva che il messaggio fesse per lui, infatti era stato uno degli ultimi ad arrivare in giardino. A quanto pare i due ragazzi si sono lasciati proprio a causa della sua partecipazione al programma televisivo non appoggiato da Sara. Quest'ultima però sembra aver cambiato idea. Gossip, se riaccesa la fiamma con uno striscione tra Jeremias e Sara Battisti?. Gossip, Jeremias Rodriguez quindi rimane sorpreso dalla dichiarazione ricevuta da Sara Battisti. Cecilia commenta, Goditi questo momento. Poi viviti la tua storia fuori. Ma se ti tratta male, le strappo tutti i capelli. Parola di Cecilia, Sara Battisti avvisata, c'è trippa per tutti i gatti. La loro storia a quanto pare è stata molto travagliata. Ma sembra che l'amore continua a persistere. . Inoltre Jeremias dopo il messaggio si avvicina a Luca Onestini dicendogli, mi dispiace per quello che stai vivendo. . Non riesco a vivermela. . Ma Onestini l'orassicura dicendogli che lui ha una persona fuori che lo ama, quindi non deve temere nulla. . 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